L'unica vera masterclass pratica sul digital marketing. Quello che io faccio, se sei nuovo te lo spiego, ogni settimana una o due lezioni dal vivo dedicate al marketing digitale. Domande e risposte, consigli e soprattutto tante idee per strutturare il tuo business e metterlo su in marcia. Oggi parliamo di come entrare sul mercato e asfaltarlo, spaccarlo in due. Ci sono quattro step, questa è la prima di due masterclass, perché su questo argomento voglio dedicare due masterclass su come entrare sul mercato. Questa è la prima parte e seguirà la seconda, che farò probabilmente domenica, quindi rimani collegato se sei indifferita la rivedrai. Sarà nella stessa playlist se sei su YouTube, quindi ci sarà anche la seconda parte. Oggi affrontiamo la prima con tante domande e risposte. Allora, nella prima parte appunto di questa masterclass andremo a vedere come si lancia un prodotto sul mercato. Quindi io ho essenzialmente individuato quattro step che tu devi avere. In questa masterclass andremo solamente ad analizzare i primi due, ok? Il primo step è questo, adesso non mi ricordo neanche se... Ok, si usa così la lavagna, è un po' che non la uso ragazzi. Speriamo di non andare in crisi, eccoci qua. Allora, i quattro step per digitalizzare il tuo business sono Il primo, vediamo se ce la fa, grandino, vedi mi fa la D Il primo, l'uno me lo fa, dai l'uno me lo fa, vediamo se faccio così Tac, guarda che forte Ecco, il primo, ce l'abbiamo fatta, è il posizionamento Segnati se vuoi queste cose Il posizionamento Poi andremo a vedere di cosa si tratta il posizionamento per il tuo business Però quello che io ho pensato di fare, ne abbiamo parlato anche a Barcellona con i miei studenti Chi di voi è del corso universitario ed è venuto a Barcellona Queste cose le sapete, le abbiamo viste, ok? E le abbiamo anche approfondite bene Però per chi è nuovo io voglio darvi, anche per voi, effettivamente ripassare non fa mai male Andiamo a vedere quali sono le cose da fare Quindi quando tu lanci un business o vuoi digitalizzare il tuo business Quindi immaginiamo che hai il tuo ristorante o non so, la tua agenzia di viaggi Il tuo negozio di vestiti, quello che hai E vuoi attrarre più clienti sul web Devi avere queste quattro cose, devi lavorare su queste quattro cose Sono i quattro pilastri del tuo business Sono i quattro pilastri del tuo business in digitale, va bene? La prima è il posizionamento La seconda è il funnel Poi andremo a vedere cosa sono queste cose qua, le andremo ad analizzare tutte In questa lezione parleremo di posizionamento e del funnel Nella successiva parleremo delle altre due Poi c'è il traffico Che è il terzo pilastro E il quarto E il quarto Sono le conversioni Ok? Conversion Aspetta lo scrivo Quattro sono le Con Ver Sioni Vediamo se me l'ho capito Grande Conversioni Quindi questi qui sono i quattro aspetti Del tuo business Che tu devi curare Il primo è il posizionamento Che è cruciale Adesso andremo ad analizzare Il secondo è il funnel Il terzo è il traffico Il quarto sono le conversioni Quindi quando tu vuoi lanciare il tuo business su internet Ti devi chiedere Ok Ma io come sono posizionato Ho un funnel E se sì Che tipo di funnel è Porto traffico E come chiudo le vendite Posizionamento significa Far sapere alle persone Cosa cavolo faccio Ma Giustificarlo Cioè devi dargli un motivo per cui pagarti Adesso lo vado a scrivere Posizionarti significa Dire Là fuori Alle persone Perché dovrebbero darti dei soldi Quando sei posizionato in modo chiaro Le persone ti danno i soldi Il dramma è che tante volte Non Pagano le persone Perché non è chiaro Il perché pagarti Sembri uno tra tanti Sembri uno uguale a tutti gli altri E allora a quel punto Se sei Se ti presenti diciamo Come una persona uguale agli altri Le persone scelgono in base al prezzo Di questo ne parla spesso Il mio socio Fabio Gallerani Che è esperto in posizionamento Lui dice Se tu ti posizioni uguale agli altri Le persone decidono in base al prezzo La cosa bella però del posizionamento Che molti mi chiedono Anzi vado ad aprire una slide su questo Molti mi chiedono Matteo ma io nella pratica Cos'è che devo fare? Adesso te lo dico cosa devi fare Intanto vediamo quanti siamo Siamo in 230 collegati Wow Dai condividete 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 Ciao Ione Ciao Prof Ciao Giacomo Roberto Laura Dino Buonasera a tutti Allora chi di voi mi dice Un proprio prodotto? Chi di voi ha già un business? E mi dice Ben trovato Ciao Miravella Chi di voi ha un business? Ditemi un business a caso Un vostro business Vi faccio un esempio Ok? Il posizionamento ragazzi È questo Il posizionamento è Che vantaggi ho? Che vantaggi ho? I vantaggi Non sono Per me I vantaggi sono Per il cliente Ok? Chi di voi ha visto il mio video Del caffè 100% arabica? La mia storia che racconto spesso Quando io passavo per questo negozio Passo davanti e vedo la scritta Il nostro caffè 100% arabica E io dico Ok ma cazzo ma ce l'hanno ovunque 100% arabica Però io sono entrato E l'ho bevuto ed era buono E gli ho chiesto al barista E gli ho detto Ma perché scusami C'è un insegna grande Che dice il nostro caffè 100% arabica Alla fine ce l'hanno tutti E lui ha risposto Sì ma io lo dico Porca troia È illuminante no? Tanti di voi hanno Avete un business Che ha innumerevoli vantaggi Che voi date per scontato Perché per voi ci sono Ma il vero segreto Quando tu promuovi il tuo business È raccontarlo con gli occhi Di chi non sa nulla Devi partire dal presupposto Che le persone non sanno niente di te Devi sempre partire da quel presupposto Devi sempre partire dal presupposto Che le persone non ti hanno mai visto E continuare a ripetere i tuoi vantaggi I vantaggi Devono essere per il cliente Non per te Ok? Quali sono i vantaggi che io offro al cliente? Vi faccio un esempio Qual è il posizionamento di Marketing Genius? Qual è? Il posizionamento mio di Fabio Gallerani Vediamo chi indovina Io lo applico alle videocamere Grande Rocco Ottimi consigli come sempre Mi ricordo il caffè Esatto Depuratori d'acqua Adesso arriviamo ad alcuni dei vostri business No? Farmacia Anche la farmacia ha bisogno di un posizionamento Assolutamente Ok vi state dicendo un po' di business Adesso andiamo a vedere il posizionamento di alcuni di questi Dicevo il nostro posizionamento di Marketing Genius L'avete indovinato È la pratica Noi siamo gli unici Io e Fabio Che fanno queste cose Quanti formatori ti vanno in diretta E ti insegnano a fare business Con roba pratica Dicendoti esattamente cosa fare Nessuno Il nostro cavallo di battaglia è la pratica Perché viviamo in un mondo dove le persone Hanno capito ormai Dov'è la fuffa E si sono rotti le scatole della teoria Le persone non vogliono più la roba teorica Le slide No! Fammi vedere come cavolo si lavora Io sono qui a scriverti alla lavagna A dirti come si fanno le cose Questa è la nostra mission Questo è il nostro obiettivo Ok? Quindi Che vantaggi ho per il cliente? Beh in Marketing Genius Tu hai il vantaggio Che hai solo cose Pratiche E che devi duplicarle Sul tuo schermo Quindi tu vedi i miei corsi Vedi i miei esercizi Tutto quello che ti insegno Devi solo duplicarlo Step by step Passo per passo Vantaggio incredibile Ce ne saranno altri Gli corsi che ti insegnano A fare le cose passo per passo? Probabile Però non lo dicono Allora non sono posizionati Nel momento in cui ti posizioni In maniera chiara e decisa Le persone comprano Poi andiamo a vedere Come organizzare tutto questo Tra la Masterclass di oggi E quella di domenica Domenica ragazzi Segnatevi la prossima Masterclass Chiedo al supporto Se va bene Domenica alle 19 Mi confermano? 19 Domenica alle 19 Allora domenica Che sarà il giorno Andiamo a vedere che giorno è domenica Segnatevi la prossima Masterclass Domenica al 23 Ok? Domenica 23 Giugno alle 19 Ci sarà la mia Masterclass Sempre in diretta su Facebook E su YouTube Quindi segnatevi la domenica alle 19 Parleremo di Continueremo questo discorso Per oggi Cerchiamo di coprire Più cose possibili Dicevo Il più delle volte Queste cose qui Sono invisibili O meglio Non so come spiegare Non devi elencarle necessariamente Ok? Poi ti farò degli esempi Non devi necessariamente elencare Queste cose Devi metterle in un modo Che siano percepite Poi ti farò un esempio Così lo capisci Comunque sono Che vantaggi ho Per le persone E Perché dovrebbero pagarmi Perché Pagarmi Quindi io sul posizionamento Ti do un esercizio da fare Ok? Ci siamo fin qui? Devi aver chiaro Che vantaggi ho Per il cliente E perché Questo cliente Dovrebbe pagarmi Questo è il posizionamento Tutto qui Che qualità ho E perché dovrebbero pagarmi Dei soldi Fantastico Ora io ti do Un esercizio supremo Che è l'esercizio Della lista Va bene? Della lista Tu devi farti un elenco puntato Di tutti i vantaggi Che il tuo business dà Quindi vantaggio Uno Vantaggio Due Vantaggio tre Vantaggio quattro Ok? Fatti una bella lista E chiediti Ma io tutte queste cose qui Le comunico Le ho scritte da qualche parte Esce fuori questa roba Quando io ho creato Marketing Genius Adesso vi porto a vedere Il sito di Marketing Genius No? Così vi è chiaro Benissimo Quello che faccio io E ve lo posso far vedere Per chiunque Lo posso far vedere Per chiunque Vi condivido lo schermo al volo Così Lo vedete Ok Adesso vado in schermo condiviso Questo è il sito di Marketing Genius Lo conoscete Guarda Finalmente il complesso mondo del web È reso semplice per tutti Allora io che cos'è che ho fatto Per posizionare Marketing Genius sul web? Quando io ho iniziato a pensarmi I vantaggi di Marketing Genius Quindi andiamo a pulire questa lista Ho fatto la mia lista No? E il primo vantaggio per me È la semplicità Ho detto Cavolo Obiettivamente io ho un vantaggio enorme E ammettete che è così Penso che saremo tutti d'accordo Io sono discretamente bravo A spiegare le cose Giusto? Cioè Sono abbastanza bravo A saper trasmettere Concetti In modo chiaro Allora mi sono detto Ok Questo qui è il primo vantaggio Semplicità Allora cosa ho detto? Ho detto Non vado a scriverci Semplice Cioè Quello che sto cercando di farti capire È che quando tu posizioni il tuo business Non è Nella pratica Non è fare un elenco È avere chiaro i tuoi punti di forza E andarli a scrivere A metterli giù A farli uscire Ogni volta che fai un video Ogni volta che fai un post Ogni volta che fai Un Che crei il tuo sito web Magari Queste cose devono uscire Non c'è una strategia precisa Basta che le mandi là fuori Ti farò vedere altri Altri esempi Però quando io ho pensato alla semplicità Ho scritto la frase di benvenuto nel sito E ci ho scritto Finalmente il complesso mondo del web Reso semplice per tutti Ok? Quindi ho rispettato il primo punto Come generare contatti e vendite per ogni attività E costruire il tuo business online Partendo da zero Anche per chi è nuovo Anche per chi è nuovo Allora Anche per chi è nuovo Si può agganciare ad un secondo punto di forza No? Che è Parto da zero Parto da zero E' un altro punto di forza del posizionamento di Marketing Genius Cioè noi insegniamo E chi parte da zero ce la può fare benissimo Ci siete? Fin qua E' interessante, è vero sta roba? Perché così capite No? Iniziate a capire molto bene come lavoriamo E obiettivamente Marketing Genius è un'azienda che ha fatturato milioni Quindi non è una roba messa giù così a caso Queste cose le abbiamo studiate, le abbiamo fatte E sono felice di condividere Perché credo nell'abbondanza Credo che se tu oggi implementi questo nel tuo business Non mi stai rovinando a me Non stai andando in concorrenza con me Ok? E Quindi Sei libero di applicare queste strategie anche nel tuo business Siamo qua apposta, no? Poi per chi lo vuole C'è il mentor program L'abbiamo lanciato ieri sera Il link è qui sopra Se sei su Facebook è sopra questa diretta Se sei su YouTube è in descrizione C'è il mentor program Ragazzi, fatelo Io ti posso solo dire a te che stai guardando questo video Fai il mentor program Sono otto settimane In cui lavori insieme a me e Fabio Gallerani Per costruire assieme il tuo successo Andiamo ad analizzare tutto questo A scriverlo per il tuo business Io vorrei farlo per tutti qua ragazzi Ma Ci vorrebbero dirette da otto ore Per questo abbiamo un programma di otto settimane Dove lavoriamo indipendentemente su ogni singolo partecipante E sul loro business Andiamo a fare il posizionamento Andiamo a fare gli annunci Andiamo veramente a costruire un sistema potente Potente Per generare vendite Per fare soldi Nel tuo business In otto settimane esci trasformato Tutte le informazioni sono qui sopra Il mentor program inizia il 15 luglio Lunedì 15 luglio Sede solo per 30 persone Molti si sono già prenotati Quindi non so per quanto tempo sarà disponibile Questa offerta Il link è qui sopra Se sei su Facebook O qui sotto Se sei su YouTube Fai il mentor program Perché ti cambia la vita Nella pagina di presentazione del mentor Ci sono tutte le storie dei partecipanti Vatti a vedere cosa hanno combinato Ok? Super mentor Dice Leonardo ha fatto il mentor Leonardo è una delle storie di successo più clamorosa Ha praticamente raddoppiato i fatturati nelle sue aziende Aveva un centro benessere che non andava tanto bene Un centro Natur House Lui è titolare di due centri Natur House Uno andava bene L'altro un po' meno Adesso l'ha avviato potentemente Anche l'altro fattura quasi più del primo Quindi questo mentor ragazzi funziona Analisa dice Io sono l'esempio vivente Che nove mesi fa non sapevo nulla di digital marketer Adesso sono una digital marketer Grande Grande Analisa Complimenti anche Ione Ione è una donna pensionata Abbiamo un'altra storia Ione, Vanda Ne abbiamo tante Donne Anche Rocco Abbiamo tanti di uomini, donne, pensionati Che decidono di diventare imprenditori E poi mi sento i giovani ragazzi Che mi dicono No io ste cose non ce la faccio Ragazzi Cioè ce la può fare chiunque A volte c'ho persone di 50 anni Che mi dicono Ma io sono troppo vecchio Persone di 60 anni Ma io sono troppo vecchio E persone di magari 20 anni Mi dicono Ma io sono troppo giovane Fine delle scuse ragazzi Le scuse prendetele Lasciatele a casa Se sei qui Se segui Matteo Devi sposare anche la mia filosofia di vita La mia filosofia di vita è zero fucking scuse Ok? Zero scuse Tornando a noi Questi qui sono un po' i punti di forza Che io Su cui io ho lavorato per partire Semplicità Parto da zero Un altro punto di forza È la pratica chiaramente Solo roba pratica Andiamo a vedere Guarda Pratica Vediamo se la pratica c'è Io mi ero fatto tutto questo elenco di roba E quando poi ho creato Il sito di Marketing Genius Vedi Sotto c'è una frase illuminante Che dice Strategie digitali Spiegate in maniera semplice ed efficace Che ti portano risultati misurabili In tempi brevi Ok? E poi qui sotto Anche Abbiamo parlato più volte Del fatto che c'è una community No? Del fatto che ci occupiamo di pratica Vedi Matteo dice Ti fornirà la strategia Pratica più efficace Ok? Quindi abbiamo spinto molto su questo Questo è un po' il nostro concetto Quindi Ti faccio vedere un'altra cosa Ecco che mi è venuta in mente adesso Oggi Fabio ha fatto un post Ve lo faccio vedere al volo Così capite questo concetto di Posizionamento di cosa si tratta Fabio Gallerani Ve lo faccio vedere al volo Guardate Vado sul profilo di Fabio Fabio oggi ha fatto questo post Dove dice Vedo solo persone che infangano lavoro altrui Blah 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 E qua alla fine dice Non credo nell'essere lontani Inarrivabili Non credo nella teoria Non credo nel rendere difficile la crescita Non credo nella verità assoluta Da me Matteo Pitaluga potrà aspettarti sempre tre cose Pratica Verità Empatia Quindi ancora una volta lui ha spiegato tutto questo Se noti il posizionamento È questo Quindi ho quello che vado a fare una volta che ho fatto la mia lista Andiamo a vedere gli step Li mettiamo giù Ti direi step 1 La lista magica Ok Fatti la lista magica dei tuoi pregi So che scrivo da cani ragazzi Ma l'importante è che voi impariate la roba Ho scritto stanzi che step Ok Poi step 2 Guardate che è difficile scrivere alla lavagna mentre parli Step 2 Scrivi Ovunque Scrivi ovunque I tuoi vantaggi Nei tuoi post Nei tuoi video In ogni cosa che dici Devono emergere queste cose Ora Io li ho scritti per esempio nelle frasi di presentazione Del sito di Marketing Genius Dove lo spiego Fabio le dice nelle sue dirette Fabio inizia le dirette dove dice Ciao io e Matteo Petaluga ti insegniamo la pratica Ti insegniamo a fare roba pratica Lo dici nelle dirette Lo scrive nei post Io spesso e volentieri faccio Pubblico dei video Li avrete visti su YouTube Su Instagram TV Pubblico video dove Magari sto mentorizzando qualcuno Li do degli step Anche lì ho modo di far vedere Quello che io Quelli che sono i vantaggi Quello che è il mio posizionamento Lo mostro lì Non deve essere necessariamente nemmeno scritto Basta che esca fuori Se io sono uno che vuole insegnare Cioè vuol far passare il proprio posizionamento Voglio far capire alle persone Che sono posizionato Con questi vantaggi No? Dicendoti io ti do la pratica Ti do la semplicità Allora io basta che ti mostro il mio modo di lavorare Questa masterclass è un altro esempio di posizionamento Perché sono qui a farti vedere qual è la mia filosofia Mi sto continuamente posizionando e riposizionando Con questi vantaggi che ti ho detto Quello che io ho fatto è fare questa lista E poi li ho messi giù E li scrivo ovunque Dove li scrivo? O li dico In realtà Io ho messo scrivi ma intendo farli uscire Nei video Io lo dico O comunque lo mostro Nei post Nelle dirette Dirette Nelle email Cavolo nelle email Nelle email Ogni tre secondi Io ti dico Io insegno solo roba semplice Io insegno solo roba pratica Te lo continuo a dire 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 Perché mi sto posizionando e riposizionando continuamente Ora Quando tu inizi a fare questo Inizi a guardare tutto il mondo Dove è strutturato il tuo business sul web Quindi il tuo canale YouTube Inizi a guardare il tuo Instagram Inizi a guardare Il tuo Facebook Inizi a guardare il tuo sito Chiediti Ma io Ho messo il mio posizionamento lì? E la cosa carina che accade È proprio questa Che Quando le persone ci contattano E magari compro i nostri corsi Il più delle volte ci dicono Ma Io vi ho scelto Ma non so nemmeno perché vi ho scelto Vi ho scelto Vi ho scelto perché mi sembrate veri Mi sembrate concreti Non dicono mai Mi sembrate pratici Perché Non è pratici Non è Però ci dicono tanto Mi sembrate concreti Perché questo? Perché siamo posizionati così Allora la persona Il tuo cliente Non va ad analizzare Come è il tuo canale A livello tecnico Come è il tuo Instagram A livello tecnico Ha una percezione Globale Da cui gli esce un feeling Quel feeling Viene dal tuo posizionamento Quindi le persone a livello inconscio Sceglieranno te Piuttosto che qualcun altro Semplicemente perché sei chiaro Su quelle cose E le stai dicendo E molte volte Non si rendono conto Dell'esatto perché T'hanno scelto In realtà questo è semplicemente Il posizionamento Gli piaci Gli piaci Gli piaci perché Soddisfi quelle che sono Le loro aspettative Molte volte anche Qualcuno mi diceva poco fa Per esempio Mi dicevano Ma una farmacia Si può posizionare Cavolo se si può posizionare Per esempio Leonardo ha un centro Naturhaus Per farti un esempio Dove ti aiuta a dimagrire Ti aiuta a sentirti meglio Si è posizionato lui Come esperto Che si prende cura di te Quindi da lui Ti aspetti solamente Roba pratica Roba personalizzata Per cui tu vai lì E fai Una visita con lui Diciamo Un colloquio con lui E ti dà una strategia Su misura Quello è posizionarsi Se tu invece apri la farmacia E dici Sono lì così E aspetto che passi la gente Magari qualcuno passa Magari no Viceversa Se io creo il mio sito Della mia farmacia Una pagina facebook Un canale instagram E dico I nostri farmacisti Sono ultra preparati I nostri farmacisti Conoscono alla perfezione Tutte le terapie naturali I nostri farmacisti Ti possono consigliare Solamente terapie Medicine Naturali Che non fanno male Che non hanno conseguenze Sarebbe carino Per una farmacia Posizionarsi A favore Veramente della salute Delle persone Noi ti diamo solo cose Che non hanno controindicazioni Cerchiamo di darti Quello che Ti può far stare meglio Veramente Oppure semplicemente Ti puoi posizionare Come ultra preparato I nostri farmacisti Frequentano ogni anno Corsi di aggiornamento In tutto il mondo Per esempio Poi le possono anche fare Online Quello che è Però già posizionati Così come farmacia Tanta roba Perché tutti i farmacisti In teoria Hanno una laurea Però magari Sui siti delle farmacie C'è sito solamente Aperto Dal lunedì Al venerdì Per esempio Invece se io Nel mio sito Ci scrivo I nostri farmacisti Sono ultra preparati Hanno certificazioni Ovunque Sono continuamente formati Adesso io non conosco Il mondo farmaceutico Te la sto buttando lì Però vai a capire Realmente come puoi Venderti al meglio Ok E se già solamente Lo dici Che hai questi vantaggi Le persone vengono da te Perché dicono Ah cavolo Però guarda un po' Questi qui Stanno dicendo che I loro farmacisti Cavolo Spaccano no? Vi siete mai chiesti Perché In tanti prodotti Dal nulla È iniziata a comparire Un po' di tempo Un po' di anni fa Già Tutte le scritte Senza conservanti Noi siamo senza conservanti Noi siamo 100% bio Noi siamo 100% Per la tua salute Se lo scrivono Sopra Io ho un dentifricio qua Chiedo al supporto Di andarla a prendere Nel bagno Faccio vedere il mio dentifricio Che ho qua in ufficio Lo faccio vedere Con cui mi lavo i denti Prima di andare in diretta Ragazzi Per essere bello Ecco Questo dentifricio qua Per farvi vedere Un esempio di posizionamento È il Sensodyn Lo conoscete sicuramente Se c'è qualche dentista Spero che sia apprezzato Ma penso proprio di sì Qua dice Blancheante Qua sopra Dice Ripara E protegge E sbiancante Ok Questo ha una scatola Bianca Con scritto enorme Sopra Sbiancante Cazzo Posizionamento pesante Che tu mi stai dicendo Io ti sbianco i denti Ora Molti altri dentifrici C'hanno l'obiettivo Di renderti i denti più bianchi Eccetera Sì ma uno che te lo scrive Bello grande Sulla scatola bianca Ti scrive sbiancante Cacchio Io ti dico che è tanta roba Per quello che vuole avere i denti bianchi Ti dico che è tanta roba E ci casco continuamente Questa è la prova Ok Quindi molte volte Il posizionamento In realtà Sono cose che sono ovvie Però non le dici È lì il dramma Sono ovvie Per te Però non le dici Per te è ovvio Che i tuoi farmacisti Debbano essere laureati O debbano aver frequentato Dei corsi di aggiornamento Inizia a scriverlo Vedrai come la gente Si inizia a fidare A venire da te Perché c'è questo dramma Che molte volte La gente pensa Ma il farmacista Non è preparato come un medico Inizia a fargli vedere Che hanno certificati Che hanno studiato Che si aggiornano La gente inizia a fidarsi Inizia a venire Capito? Questo qui mi viene Mi viene in mente questo Poi ce ne sono mille Di altri angoli Che puoi Che puoi far vedere Tutti i business Hanno bisogno di un posizionamento Tutti Un altro può essere Siamo aperti 24 ore Qua a Valencia Vicino all'ufficio C'è una farmacia Che è aperta 24 ore C'è scritto gigante Noi siamo aperti 24 ore Sempre Posizionamento potente Ci siamo sempre per te Non crediamo Negli orari di turno Non crediamo Nel fatto che ti devi sbattere E andare dall'altra parte La città Noi ci siamo sempre Bam Quello è un altro tipo Di posizionamento Che è ovvio Che magari una farmacia È aperta 24 ore Ma scrivilo grande Scrivilo nel tuo sito Sbattilo ovunque È tanta roba E se ci aggiungi anche la mission Noi siamo qui per assisterti 24 ore su 24 Tanta roba Ci siamo ragazzi Buone indicazioni Grazie Sei un grande Grazie Tu Gabriella Sei una grande Onnipresenza Sempre Poi qualcuno diceva Ad esempio I depuratori d'acqua I depuratori d'acqua Anche quello è molto semplice Da posizionare Perché il depuratore Tu basta che mi dici Il depuratore Ha un dramma Al più delle volte Le persone non sanno Se funziona Allora tu puoi dire Il nostro depuratore d'acqua Ti porta l'acqua A pH 7 100% alcalino Bam Potente Che altri vantaggi Può avere il tuo depuratore Funziona sempre 5 anni di garanzia Supporto costante Noi per esempio Abbiamo lavorato con Uno dei membri Del nostro mentor program Maurizio Padula Ripara caldaie Ha iniziato a posizionarsi Sul sito come Noi ripariamo caldaie Assistenza garantita Supporto costante Con lo whatsapp E col telefono Accesi sempre Cazzo è tanta roba Perché se io chiamo questo Mi ripara la caldaia E ho un problema Io so che magari Le due di notte Se sono nei casini Lo posso chiamare Mi dà assistenza Lui ha puntato Tutto su quello Ovvio è scontato Che uno che ti vende Una caldaia Abbia l'assistenza Però se tu lo dici Le persone pagano Se sei posizionato così I nostri clienti Vengono prima di tutto Noi ci siamo sempre Tanta roba Ho dovuto chiamare Il meccanico Qua a Valencia Fortissimi anche loro Posizionati 24 ore su 24 Ci siamo sempre Assistenza a domicilio Bam Sul loro sito Secco proprio Appena entri Quello è posizionamento potente Perché rispetto al meccanico Che tu entri nel sito E c'è scritto Ciao siamo un meccanico Vieni a trovarci E un altro Che bello grande Ti mette il numero di telefono E dice Chiamaci Assistenza a domicilio 24 ore su 24 Supporto costante Garanzia su tutti i nostri prodotti Minchia No? Tanta roba Depuratore d'acqua Può fare la stessa roba Il bello qual è che Anche se sei della concorrenza Se tu scrivi i tuoi vantaggi E li fai sapere continuamente Diventano la tua mission In realtà I tuoi vantaggi Quelli che offri Diventano la tua mission Continua a dirli E le persone Quando vedono un po' Il tuo modo di Proporti Il tuo stile Il modo in cui ti Mandi là fuori Il tuo messaggio Vengono attratti da te Vengono attratti da te Perché sei chiaro Perché gli dici Dici esattamente Quello che Quello che fai E loro vengono a darti Dei soldi Mi viene in mente Un'altra persona Riccardo Massari Anche lui ha fatto Il mentor program con noi Due anni fa praticamente Riccardo Abbiamo fatto gli annunci Su Google insieme Per il suo Business di guanti Lui vende guanti da lavoro Quindi è un altro prodotto Piuttosto difficile da vendere Perché guanti da lavoro Bam Annuncio cattivissimo Spedizioni entro 24 ore Disponibili 24 ore Sui 24 per supporto Li ricevi in un giorno Ultra resistenti Garanzia per sempre Cioè Era più o meno Una roba così Adesso non mi ricordo L'annuncio esatto I guanti da lavoro Più resistenti dell'universo Era proprio così Li puoi usare Per fare Qualsiasi tipo di lavoro Giardinaggio Opere pesanti Metalmeccaniche Qualsiasi cosa E non si distruggono mai Posizionamento chiaro Te li spedisco In 24 ore Ti diamo assistenza E garanzia Posizionamento potente Le persone chiamavano Chiamavano Che dicono Cavolo Ma questi qui non si rompono Tante volte Il solo fatto di scrivere Porta la persona a pagare Ho spiegato questo concetto Anche Quando abbiamo creato Dei siti web Il fatto che ci metti Il bottone pagamento sicuro Porta più persone a pagare Anche quello è un posizionamento Perché tra i vantaggi Io posso avere I pagamenti sicuri Sono un vantaggio Perché la persona sa Che può stare tranquilla Scrivilo Noi in tutti i nostri siti Abbiamo pagamenti sicuri La persona è tranquilla Glielo stai dicendo Anche quello è il posizionamento Quindi mi raccomando Fatti la tua bella lista magica Puoi avere i pagamenti sicuri Puoi avere la spedizione 24 ore L'assistenza 24 ore Puoi avere il whatsapp Il fatto che entri in contatto Con i tuoi clienti Non lo so qual è il tuo business Profatti la lista magica Di tutti i vantaggi che hai Che possono essere Ti ripeto La spedizione Il supporto La qualità del prodotto Tutto quello che hai di potente Mettila giù E scrivili ovunque Fai in modo che escano fuori Uno dei post Ci siamo fin qua? Ci siamo fin qua ragazzi? È potente questa masterclass? Dai condividetela Condividi 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 E poi segnati l'appuntamento Domenica ore 19 La prossima masterclass Domenica ore 19 Continuiamo questo discorso Sono nuovo qui Grande sei nuovo? Il nostro pseudo business Batta sui fiori alternativi Bello In carta In tessuto Bucquet Alternativi per matrimoni Eventi Come la vedi? Consigliaci Vieni nel mentor program Domenico Fatti il mentor Insieme a me 8 settimane E vediamo di portare Il tuo business Al successo Ok? Ragazzi 8 settimane Con me e Fabio Un'ora di consulenza Costa 1500 euro Ok? Con meno di 2000 euro Vi fate il mentor program Per otto settimane C'è incluso l'accesso Al mio corso All in per otto settimane Che solo quello vale 9,97 Ti fai il mentor program Lavori con me e Fabio Personalmente Per otto settimane Andiamo a lavorare Su tutto questo Andiamo a scrivere I tuoi vantaggi Andiamo a metterli sul sito Negli annunci Andiamo a metterli ovunque Lo faremo noi Insieme a te I risultati In questo tipo di programma Sono senza precedenti Nella storia di internet Ragazzi Chi ha fatto azione Ha avuto risultati Tutti Nessuno escluso Ieri sera abbiamo fatto il webinar Abbiamo presentato il mentor program Avete visto screenshot Su screenshot Su screenshot E tutti i giorni Ce ne arrivano Il link è qui sopra Per unirti Se sei su facebook È sopra nel post Se sei su youtube È sotto in descrizione Fatevi il mentor ragazzi È tanta tanta roba Poi C'è il discorso Quindi questo qui È per il primo step Stavamo parlando del posizionamento Penso di averlo coperto bene Il secondo è il funnel Cioè Il funnel cos'è? Il funnel sono Essenzialmente Il mio annuncio La mia ad Ok Che poi va sul mio sito O su una pagina web Va bene? Qua tu nel posizionamento Ti devi chiedere Essenzialmente Questo L'annuncio Cattura l'attenzione Attenzione E il sito Mi genera contatti? Queste qui sono le due grandi domande Che ti devi fare Questo è il concetto di funnel Devi avere un annuncio Ah una cosa importante L'annuncio Quanti ce ne servono Secondo te? Cento? Mille? Cinquanta? Quanti annunci ci servono? Te ne serve Uno Uno Un annuncio E basta E basta E' lì che sbagliano tutti Perché Fanno il più delle volte Mille test diversi Anche io sento tanto questa roba Nel mondo online Devi testare No? Devi testare tutto Non devi testare niente Devi fare una roba fatta bene E quella converte Fine Eh prova No? A cambiare l'immagine Prova a cambiare 20 volte il testo E vedi cosa esce bene Ci sta? Perché a volte ci sono cose che convertono più di altre Però se tu ti pedi il tempo di fare una roba fatta bene Converte sicuro Quindi un annuncio che catturi l'attenzione E porti le persone sul tuo sito Quello ti serve nel tuo funnel Il sito deve generare contatti Allora nel tuo sito Ritorna al discorso del posizionamento Poi anche lì ci sarebbe da Cioè Fare un discorso di 5 masterclass Solo su come deve essere un sito Però di base Il tuo sito deve avere questo concetto Deve avere un titolo qua Qua ci deve essere il titolo del tuo sito Qua un titolo Che porta le persone a leggere quello che c'è dopo Che porta le persone a leggere quello che c'è dopo Che li porta finalmente a Un form O un qualcosa dove pagano O ti chiamano per pagare Questo qui è il concetto del sito Tutto lo scopo di un sito deve essere Incuriosire Darti più info Darti più info Darti più info E portarti a pagare Nel sito Non fate l'errore che fanno in molti Che mettono le informazioni base e basta Torniamo al discorso di prima Tu non devi parlare Non devi promuovere il tuo business Con gli occhi di Dio Io li chiamo gli occhi di Dio Gli occhi di Dio E gli occhi di chi sa tutto Sbagliato Devi partire e promuovere il tuo business Con gli occhi di chi non vede nulla Tu devi pensare Che chi visita il tuo sito Anche gente che sa che esisti Devi partire dal presupposto Che non sanno nulla Spiega tutto Spiega tutto quello che fai Spiega per chi è Spiega che vantaggi dai Più roba c'è nel sito Meglio è La gente vuole i dettagli La gente vuole la precisione È un po' come Per esempio quando tu compri Non so Un telefono nuovo Vai su Amazon No? Vedi il telefono che ti piace Ti vai a leggere le cose Poi ti vai a vedere il video recensione Poi ti vai a vedere le foto Parte dell'acquisto Guarda che fidati Parte dell'acquisto Che è questa parte qui Dove la gente si va a vedere Tutto Piace alle persone Guarda che la gente piace Andare lì a guardare No? È lì che guardi Così Prima ancora di averlo Tu già godi Obiettivamente È vero o no? Godi di brutto Parte dell'acquisto Delle esperienze Anche proprio l'attesa Prima di riceverlo Il stare lì a guardare Le foto Sentirti che piano piano Ti stai avvicinando A quel prodotto Tanta roba Quindi Il fatto di avere Una pagina di vendita lunga Che dà tante informazioni Fa vedere tante foto Fa vedere tanti video Tanta roba Porta la persona A sentirsi sempre bene Sempre meglio Ad avvicinarsi Sempre di più a te Ci siamo? E poi A quel punto Ti danno i loro contatti A quel punto Ok? C'è qualche domanda ragazzi? C'è qualche domanda? Il mentor è tutto online Ragazzi È tutto online Il mentor program Ok? Il mentor program Sono otto settimane Insieme a me E Fabio Gallerani Con webinar Ogni settimana Dal vivo Ogni lunedì Saremo in diretta Ogni lunedì Rimane anche registrato Quindi uno si può anche Vedere il replay Per otto lunedì di fila E lavoriamo Sui business Di ognuno Ti aiutiamo A strutturare tutto Anche solamente Se hai un'idea Non devi necessariamente Avere già il tuo business Basta che hai un'idea O comunque Un qualcosa che ti ispira In otto settimane Noi te lo facciamo volare Ok? Quello lì è l'obiettivo Andiamo a lavorare Su ogni singolo aspetto Andiamo a lavorare Sul posizionamento Andiamo a lavorare Sul funnel Sul sito Ti diamo anche Il template Del tuo sito Già fatto dal nostro programmatore Devi solo cambiare Delle cose E scrivere tu la roba Però ti diremo Noi cosa scrivere E Te lo correggeremo anche Andiamo anche a correggere I siti delle persone Portiamo traffico E facciamo conversioni Ok? Quello lì è l'obiettivo Del mentor program In otto settimane Andiamo a lavorare insieme Per costruire il tuo successo L'attesa del piacere È Da piacere Vero Vero Sto imparando parecchio Di ceddi Grande 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 Sono contento ragazzi Le masterclass Sono Secondo me Sono Di valore estremo E valgono Veramente Di più Di qualsiasi corso Che tu puoi prendere A pagamento Là fuori Ok? Perché molti corsi Non ti mostrano Come fare le cose Non ti danno Io sono sempre Per lo step by step Se noti Io cerco sempre Di riassumerti Le cose da fare In modo che tu Quando hai un tuo business Quando vuoi fare il cash Ti riguardi la roba O gli appunti Dici ok Questo l'ho fatto Questo l'ho fatto Questo l'ho fatto E questo l'ho fatto E a questo punto Mi posso aspettare Dei risultati No? Questo è il mio modo Di insegnare Questa è la mia filosofia Quindi Per chi vuole Lavorare insieme a me Per otto settimane Vuole essere seguito Personalmente Da me e da Fabio Per otto settimane Fai il mentor program Sono solo 30 persone Un gruppo ristretto È l'unica occasione Che esiste Per lavorare insieme a me E Fabio Gallerani Nessun altro lo fa E chiediti perché Nessun altro lo fa Noi ci mettiamo La faccia pesante Nel mentor program Dopo il mentor program Abbiamo creato Il mentor program club Vi faccio vedere una cosa Sul mentor program club In pratica Il mentor program club Sono I vecchi studenti Del mentor Chi finisce il mentor program Entra nel mentor program club E ha accesso Ad eventi dal vivo Eventi privati Webinar di aggiornamento Per rimanere in contatto Con noi Questo perché lo facciamo? Beh perché vogliamo Creare un percorso Continuato con queste persone Non vogliamo solamente Fare otto settimane E poi addio Ti abbandoniamo No vogliamo creare Un percorso Dove veramente Ti portiamo al successo Guarda cosa succede Per rimanere in contatto Di e avete visto qualcosa un po' di cosa succede lì all'interno del mentor program ragazzi fate il mentor fate il mentor perché veramente vi cambia la vita 30 posti massimo quindi fai azione adesso il link è qui sopra se sei su facebook o se sei in youtube è in descrizione quasi tutti non sono in grado è vero è vero Rocco non tutti veramente in pochi ti fanno cose così dove dal vivo veramente ti danno contenuti massimo chiede scala dei valori sì o scala dei valori no qual è la tua posizione in merito per me scala dei valori sì massimo sì ti spiego perché molti guru insegnanti coach chiamiamoli qui cioè la scala dei valori cos'è per spiegare è questa no cioè io parto magari con un entry level da 50 euro va bene poi ti vendo un prodotto da 100 poi ti vendo un prodotto da non so 200 e poi ti vendo un prodotto da 1000 per esempio questo è la scala dei valori molte persone dicono no non fa la scala dei valori vendi solo a prezzi alti o vendi solo a prezzi bassi ma perché? parliamoci chiaro perché? no? allora nell'online per me la scala dei valori ci vuole ma ci vuole in quasi tutti i modelli di business a meno che tu non abbia un business che è solo ed esclusivamente posizionato luxury quindi solo ed unicamente posizionato high ticket ti sto parlando che fai una roba solo per chi è facoltoso ok? però devi essere un brand veramente riconosciuto e devi avere tanti budget ti faccio un esempio l'Ushuaia chi lo conosce l'Ushuaia? è un locale di Ibiza una delle discoteche più famose al mondo l'Ushuaia quando è uscito se non sbaglio dal 2014 2013-14 quando è uscito l'Ushuaia o 2012 forse forse 2012 quando è uscito l'Ushuaia l'Ushuaia è uscito ha aperto questo hotel della Madonna non lo conosceva nessuno a Ibiza prima settimana ha preso David Guetta Avicci cioè tutti i DJ più potenti Lussiano ha preso chi ha preso? Calvin Harris ha preso i più potenti di tutti bam! li ha buttati lì allora budget enormi ti posizioni direttamente qua ti posizioni direttamente potente per gente con un po' di cash quindi quello lo puoi fare la Rolex non è che ti fa il modello sfigato da 20 euro no è un brand riconosciuto ma un brand che ha tanti budget per creare questi orologi è partito molto in alto se tu parti da zero secondo me l'ideale per chi vende online è avere una scala dei prodotti perché? perché chi ha pochi soldi ti conosce e ti dà 50 euro e poi magari te ne dà 100 poi magari te ne dà 200 e poi 1000 quindi per me se vendi online o hai degli infoprodotti eccetera devi partire con una scala dei valori devi avere prodotti un po' per tutti puoi partire dal libro puoi partire da il corsicino piccolo una roba leggera e poi vai più in alto quindi per me sì alla scala dei valori a meno che il tuo business non sia posizionato unicamente per gente facoltosa e devi avere un bel po' di budget però per creare anche roba di altissima qualità subito questa è la mia opinione io il più nella maggior parte dei casi dei business online sono per la scala dei valori assolutamente assolutamente ma poi c'è un altro concetto c'è anche gente che dice no parti secco con 1000 ok ma è una follia perché se per esempio non so vuoi creare il tuo videocorso il tuo prodotto digitale se esci secco a 1000 tu pigli le persone con 1000 euro ma tutti quelli che ne hanno 100 in tasca o ne hanno 50 tu non pigli soldi perché se uno ha 100 di budget disponibile capisci bene che non ti può dare 1000 se ha 100 in tasca il segreto è cercare di prendere tutto quello che puoi prendere in base ai budget delle persone e dargli chiaramente quello che loro si possono permettere in un business digitale anche nella maggior parte dei di per esempio Armani ti faccio un esempio Armani ha vestiti da 2000 euro ma anche magliette da 50 euro perché ha diviso le linee c'è l'Armani collezione proprio business man cazzo giga potentissima con vestiti da 2000 euro e poi ha la linea day to day che tu ti vesti normale con una polo ma maglietta quello che è Armani tranquilla 50 euro capito quindi loro ha detto sì noi possiamo vendere i vestiti a tutti a 1000 però cavolo effettivamente c'è gente che gli piace il nostro brand 1000 euro non ce li ha non ce li dà li pigliamo 50 questa è un po' la mia opinione quindi ragazzi io direi che vado in chiusura vi do appuntamento a domenica ok questa domenica alle 19 per continuare questo discorso dove continueremo a parlare di posizionamento oddio ho distrutto tutto vabbè l'avete vista bene prima continueremo a parlare di posizionamento e traffico e conversioni quindi una volta che ci siamo posizionati portiamo traffico e chiudiamo vendite ne parliamo domenica live alle 19 ti ricordo ancora una volta ragazzi 30 posti massimo per il mentor program se vuoi lavorare insieme a me e Fabio Gallerani per 8 settimane questa è la tua occasione il link è qui sopra se sei su facebook in descrizione sopra se sei su youtube è qui sotto fai azione oggi ciao ti aspetto